Buonasera, sono Andrea Colletta, rappresento il ristorante La Bourche di Oretto, in frazione di Campiglia Cervo. Questa sera andremo a preparare un risotto mantecato con un formaggio molto tipico, il Fjordalsarf. Il risotto sarà sfumato con vino del nostro territorio, sarà portato cottura e mantecato con il formaggio Fjordalsarf. Formaggio di latte vaccino, lavorato crudo, da latte non pastorizzato e tipico della nostra valle, guarnito con tartara di trota marinata agli agrumi.